Il rischio effettivamente, il quadro è questo qua, abbiamo due valori sportivi altissimi in Liguria, tra tutti gli altri sport, in questo sport noi siamo campioni d'Italia, sia nella femminile che nella maschile, con la Prorecco e con la Mediterranea con noi, e in questo momento questi due titoli sono messi in discussione perché i play-off parallelamente al nostro di Mediterranea lo sta facendo il Prorecco col Brescia. Quindi effettivamente questo rischio è che la Liguria possa perdere in qualche modo questo primato, per cui l'idea è quella di chiamare tutta la Liguria, tutte le società sportive, tutti i Liguri, per cercare di difendere uno sport per noi molto importante, molto tradizionale, nel quale in questo momento noi stiamo veramente primeggiando. Intanto domani vedremo una partita molto affascinante, molto combattuta, perché le due squadre daranno sicuramente grande spettacolo. In più noi metteremo qualcosa di nostro, come abbiamo fatto altre volte, quindi metteremo la musica e i colori e le luci. Io questa volta, per la prima volta, faremo una cerimonia, come l'abbiamo chiamata noi, di posa del pallone, cioè verrà posizionato il pallone al centro, che è un momento per la palla nuoto molto significativo perché la prima azione la si contende con questo tratto a nuoto, ma non è che poi questo aspetto qua venga molto enfatizzato in genere, ma cercheremo di dargli la giusta importanza. Prima della partita, circa un'ora, un'ora e mezza prima, daremo la possibilità ai nostri ragazzini, agli esordienti, di entrare nel campo dei grandi e di fare una bella partita di pallone al nuoto, così da dare loro un'emozione in più e anche ai genitori, alle persone che vengono a vedere la partita, di vedere la pallone al domani. Grazie. Grazie. Grazie.